Chiedo alla regia di mostrare una foto scattata da Anna Verriello ieri alla città degli Ulivi che rappresenta cosa Antonello? C'è stato questo bellissimo scambio di maglie tra la maglia del centenario del Vitonto Calcio e con i rappresentanti della nazionale italiana Sicurezza sul Lavoro. Lì c'è Francesco Cervelli e Alessio Orlino con i quali anche io facciamo parte di questa nazionale italiana Sicurezza sul Lavoro poi c'era anche il consigliere nonché medico del lavoro, il dottor Zullo insieme portiamo in giro, vogliamo dare il segnale di quanto sia importante la sicurezza sul lavoro e lo facciamo attraverso la nazionale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Presidente Rossiello ovviamente è splendida persona per l'ennesima volta sembra come se sto cercando la riconferma si fa per dire però sicuramente ha voluto fare questo scambio di maglie perché comunque sono messaggi importanti e il calcio serve anche per veicolare questi messaggi di vita questi messaggi importanti per tutti.